Ora la pagina della pallavolo, due sconfitte e una vittoria per le abruzzesi di Serie A nei rispettivi campionati, ma andiamo con ordine in Serie A2 maschile, non aggiornata, nulla da fare per la sieco impavida Ortona, state per vedere alcune immagini in trasferta contro la vicecapolista Bergamo. I padroni di casa si impongono con un 3-0 che permette loro di continuare la lotta al vertice, questi i parziali 25-16, 25-23, 25-15. Quella contro gli Orobi c'è stata una gara che ha mostrato ancora una volta quelli che sono i difetti di questa sieco, si sono visti errori in fase di ricezione che alla fine non supererà il 36% di positività. Il lavoro del muro avversario ne risulta così facilitato nella lettura del gioco, infatti i bergamaschi ne hanno stampati 14 in 3-7 contro i soli 4 degli abruzzesi. La sieco dunque, che è ultima in classifica con due punti, dovrà ancora rimandare i piani di rilancio. L'occasione arriverà già mercoledì quando ad Ortona arriverà il sestetto di Reggio Emilia per il turno infrasettimanale dell'Immacolata.